Siamo nel cortile della biblioteca a Palazzo Langosco sotto la biblioteca all'interno della quale è stato allestito il quartier generale un giorno alla settimana però quindi solo il venerdì dalle 14 fino alle 17.30 del progetto Monfreestyle all'interno dello spazio 2K che è il contenitore culturale del comune di Casale Monferrato che è partnership di questo progetto che è il progetto del centro educativo diffuso. Abbiamo visto quest'estate una delle iniziative fatte nei quartieri del Valentino con il laboratorio di street football che ha coinvolto addirittura il Casale Calcio e il Pastor Frigor è stata una delle prime iniziative fatte all'interno dei quartieri poi c'è stata una collaborazione con Bimbi in Bici dove avevamo partecipato con il laboratorio di Gem Station i ragazzi dello skate park e adesso a fine ottobre abbiamo iniziato ad allestire il quartier generale abbiamo passato tutto l'inverno qui facendo ancora delle escursioni all'interno dei quartieri in città ma anche proponendo con i portatori di interesse che hanno partecipato e sono volontari oltre che fruitore dello spazio alcune delle attività proposte e nate dalla cittadinanza attiva di Casale per il CED. Una delle attività è il laboratorio di Gem Station abbiamo allestito una ludoteca con dei volontari che fanno Dejo Sandragon, Yu-Gi-Oh! Magic e un laboratorio di scacchi con alcuni volontari nostri che appunto erano già presenti in città noi abbiamo non abbiamo fatto altro che raccogliere tutte queste sinergie che già erano presenti nella nostra città e metterle tutti in un contenitore unico e far sì che un hobby magari che fino a ieri era di nicchia adesso è diventato un laboratorio per la città e per tutti i giovani della nostra città. Questo spazio ospita anche dei tavoli di interesse, i tavoli di interesse sono degli spazi in cui la popolazione e i ragazzi possono trovarsi per discutere di tematiche che riguardano le tematiche giovanili. In questo momento per esempio si sta discutendo moltissimo sull'alternanza scuola-lavoro dopo tra l'altro le morti di due ragazzi avvenuta proprio in quella circostanza qui e i ragazzi hanno portato l'esigenza di poter discutere e parlare di questa argomentazione. Stiamo valutando di approfondire con altri tecnici, ci sono tante collaborazioni, all'interno della rete un dialogo aperto anche per quanto riguarda con l'educativa territoriale, spero che si sviluppi sempre di più e che possa essere anche questo uno spazio di inserimento sociale a 360 gradi che però parta dall'inclusione di tutti indipendentemente da chi è attenzionato o non è attenzionato dal servizio sociale. Abbiamo sperimentato l'aggancio anche nei centri di aggregazione spontanea, per esempio Piazza San Francesco, siamo andati a Porta Milano, siamo andati al Valentino, allo skate park, nel campetto che si trova davanti all'Eurospin, sono luoghi che normalmente i ragazzi frequentano in maniera spontanea e con l'arrivare della buona stagione ci auguriamo di uscire più spesso dallo spazio del Mont Freestyle che si trova qui e fare molte più attività non solo qui ma anche in giro per i quartieri. Questo era il progetto all'interno del bando Reestyle che purtroppo adesso sta per concludersi e ci si augura che in qualche modo si possa continuare con altre risorse sperando che ci arrivino insomma da qualche parte. È un progetto che sta suscitando molto interesse in città, molta curiosità. Ancora non abbiamo fatto un'inaugurazione ufficiale di questo spazio perché appunto come dicevo prima questi mesi ci sono serviti da sperimentazione per poterlo attivare nel migliore modo possibile. Tutto sommato io direi che in questi mesi sono state fatte moltissime cose e c'è veramente una buonissima partecipazione di un gruppo di volontari molto giovani che hanno sui 20 anni che oltre ad essere volontari sono anche fruitori dello spazio stesso e anche coprogettatori. Questo era un po' la dinamica maieutica della progettazione CED per arrivare a un obiettivo finale che è quello della costruzione di una comunità educante. Le attività sono queste, chiediamo la partecipazione di tutta la cittadinanza e del mondo dell'associazione e di tutti i portatori di interesse della città che ce ne sono tantissimi. Vogliamo ringraziare enormemente l'assessorato le politiche sociali che ci ha dato l'opportunità di portare avanti questo progetto, che ha creduto in noi, ha dato un'ottima partnership alla cooperativa Vedo Giovane per la quale lavoro e spero che si potranno fare sempre più cose e si allargerà a macchia d'olio la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza per i giovani di questa città. Grazie a tutti!